Alla coltivazione dei campi è una scelta che può sembrare inconsueta, ma in realtà non lo è e i due mondi non sono poi così distanti. A raccontarci la sua scelta di vita è Valentina Stinga, che quattro anni fa ha deciso di passare dalle aule universitarie di Milano alla terra della sua Sorrento. In realtà è stato un percorso un po' particolare, io sono tornata il giorno dopo la laurea, dopo la laurea specialistica direttamente a Sorrento, quindi ho preso un volo alle 6 di mattina. Sono tornata qui perché volevo tornare qui, l'agricoltura non era neanche dei miei sogni più lontani. Anzi, volevo lavorare nel turismo, ho lavorato nel turismo per un po', però non mi sentivo mai completamente soddisfatta. Anche se ero giovane, perché comunque sono tornata a Frigia avevo 23 anni, quindi non ero fatta e finita anzi, però mi sembrava sempre che mancasse un pezzetto da qualche parte. Il pezzetto mancante poi è scoperto essere da terra, perché qualche anno fa, ormai quattro anni fa, ho iniziato per gioco a coltivare qualche verdura in primavera e mi sono resa conto di quanto effettivamente questa attività mi piacesse e mi piacesse soprattutto anche raccontare quello che facevo agli altri e da lì è nata l'attuale azienda agricola. Tutto è iniziato così per caso, ma ora vivere tra olive e verdure è diventata la sua passione. Ho scoperto il mare questo lavoro facendolo. Abbiamo molto cambiato quella mentalità per la quale il contadino era quello che non aveva avuto un'altra scelta nella vita, le famose braccia rubate all'agricoltura. Purtroppo in questo momento abbiamo un po' il problema opposto, perché i vecchi contadini hanno fatto studiare giustamente i figli proprio per fare in modo che loro non dovessero fare questo mestiere, perché veniva visto proprio come una crocefissione, una brutta cosa. Adesso grazie ai tanti giovani che si stanno dedicando a questa quota, alle tante donne che si stanno dedicando a questo mestiere e che lo fanno in qualche modo amare anche agli altri, fortunatamente sta un po' cambiando questo trend. Le sue giornate sono fatte di lavoro nei campi, semina, raccolta, ma passa tante ore anche davanti ad UPC ed è lì che si coniuga il legame tra terra e studi universitari. Veniva da una formazione che mi ha aiutato su quella che era la parte economica dell'azienda, su quella che era la parte anche di comunicazione, avendo una laura specialistica in marketing. Però ovviamente mi mancava tutto il resto, mi mancava sia la parte burocratica, mi mancava appunto la base di agraria, quindi tutto quello che è relativo a come si coltivano le cose. Ed è una cosa che in parte ho acquisito io col tempo, in parte ovviamente mi affido ai professionisti. La terra le ha cambiato la vita in ogni aspetto. La terra mi ha cambiato la vita e poi me l'ha cambiato anche il mio attuale compagno, che ho conosciuto perché ha visto online dei miei prodotti e ho voluto provarli. E non abitando troppo lontano, invece di mandargli il corriere, sono andata io di persona perché ero di strada e poi ci siamo ritrovati adesso per essere compagni di vita. E quindi sì, sia la terra che noi ne hanno condivido la vita. Se tu ripensi alla Valentina di qualche anno fa e la guardi oggi comunque nei campi che cerca di dare un senso a quello che è il tuo progetto. Mi viene da ridere, penso alla Valentina di prima perché io ero veramente completamente un'altra persona. Ho messo i pantaloni blu e la maglia nera stamattina e ho detto è una cosa che non avrei mai fatto prima di andarmene via da qua. Quindi sicuramente la Valentina di prima non avrebbe avuto idea di quello che è invece la Valentina di oggi. Però secondo me, io sono fiera di essere la Valentina di questo nuovo.